Buongiorno da FTI Online, partenza tranquilla questa mattina per la borsa, Fuzzimib infatti in questo momento in calo del 0,01%, siamo intorno ai 23.750 punti, non ci sono grosse variazioni per quello che riguarda il quadro grafico, siamo ancora in questa fase di sostanziale lateralità che l'indice ha intrapreso a partire dalla seconda metà della scorsa ottava, solo se dovessimo scendere a di sotto di area 23.300 avremmo dei segnali comunque veramente preoccupanti che farebbero temere una correzione stesa di tutto il rialzo dai minimi di inizio mese, fino a che ci manteniamo di sopra di area 23.300 invece è possibile un nuovo tentativo di andare a recuperare i 24.000 punti. Questa mattina ci concentriamo sul settore del lusso, in particolare iniziamo con Ferragamo in forte rialzo, 3,87% il saldo di giornata fino a questo momento, siamo intorno ai 23.65, vediamo cosa dice il nostro mega trader, il programma di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, su Ferragamo la posizione è long, acquisita peraltro proprio grazie al rialzo di venerdì, la valutazione sul titolo è una valutazione a 5 stelle per quello che riguarda la prospettiva della tendenza, si nota sul grafico giornaliero la presenza di questo potenziale doppio mimo, quindi una figura rialzista che verrebbe completata con il superamento del massimo dell'11 dicembre a 23,59 Euro, resistenza sulla quale i prezzi stanno insistendo anche questa mattina, una chiusura di seduta di sopra di 23,59, sarebbe quindi un segnale di forza che aprirebbe la strada a movimenti almeno proporzionali alla proiezione dell'ampiezza della figura doppio minimo dal punto di rottura, quindi con obiettivi posizionati sui 26,77 Euro circa. resistenza intermedia, l'area di massimi toccati il 21 luglio e il primo di agosto dello scorso anno intorno ai 25 Euro, quindi al di sopra di 23,60 Euro, primo target a 25, successivo a 26,75 Euro circa. Vediamo che anche in termini di medie mobile, con il movimento sostanzialmente laterale che i prezzi hanno fatto nel corso delle ultime settimane c'è stata la possibilità di andare a intercettare la media mobile a 100 giorni che è stata superata con successo nella giornata di venerdì, confermando la rottura della media anche in chiusura giornaliera, quindi segnali di forza che iniziano a essere abbastanza convincenti. Passiamo adesso a Moncler, su Moncler c'è stata questa mattina la revisione da parte di JP Morgan del target price portato a 27,50 Euro, quindi sui prezzi dove il titolo sostanzialmente sta insistendo adesso, in termini di posizione suggerita da parte del megatrader su Moncler abbiamo una valutazione positiva, posizione long dal 18 gennaio, anche in questo caso valutazione a 5 stelle per quello che riguarda la prospettiva di andamento del trend. avevamo avuto nel corso della seduta di venerdì un test di un massimo a 27,46 Euro, c'era stata poi la chiusura più bassa a 27,04 Euro, ma questa mattina i prezzi sembrano intenzionati a riproporsi nuovamente su quei livelli. Il canale rialzista che parte dai minimi del novembre dello scorso anno fornisce con il suo lato alto un target per il proseguimento di rialzo fino a 29,10 Euro, l'importante per vedere proseguire la fase crescente sarà che i prezzi si mantengano anche in caso di flessioni al di sopra dei massimi di dicembre toccati a 26,60 Euro, quindi fino a che staremmo a di sopra di area 26,60 Euro, possibile il raggiungimento di obiettivi intorno ai 29 Euro. Passiamo infine a OVS, un titolo che nel corso delle ultime sedute ha dato dei segnali decisamente positivi, oggi siamo sostanzialmente neutrali e anche per OVS la posizione suggerita dal megatrader è positiva, vediamo quale sia la valutazione del rating sintetica, anche in questo caso 5 stelle, la posizione è stata aperta a rialzo il 15 gennaio. Notiamo la presenza sul grafico a elementi giornalieri di un testaspale rialzista, la prima spalla è il minimo del 17 di novembre, la seconda spalla il minimo del 18 di gennaio, la neckline del testaspale è la linea che unisce il massimo di inizio dicembre con il massimo del 12 di gennaio, è stata superata nella subito di venerdì, la linea vale come supporto 5,95 Euro circa, il target del testaspale calcolato proiettando la sua ampiezza dal punto di rottura della neckline si colloca intorno a 6,40 Euro, in caso di superamento anche di quei livelli diverrebbe probabile la ricopertura del gap ribassista che i prezzi si sono lasciati alle spalle il 27 di settembre scorso anno, col lato alto a 6,72 Euro circa, quindi al di sopra 6,40 Euro nuove possibilità di crescita fino a 6,70 Euro, del resto anche in questo caso come abbiamo visto per Ferragamo i prezzi hanno superato nella giornata di venerdì la media mobile a 100 giorni inviando un segnale di forza che si unisce alla rottura del trendline ribassista che parte dai massimi di settembre, quindi abbiamo un quadro grafico in evoluzione positiva anche in un'ottica di medio termine, è possibile che il titolo stia cercando di recuperare la tendenza rialzista che si era vista dai minimi di dicembre 2016, del resto la fase di correzione che c'è stata dai massimi di settembre del 2017, vediamo che si è limitata ad interessare il 61,8% della precedente fase crescente, quindi assolutamente ancora un movimento correttivo quello che abbiamo visto dai massimi dello scorso settembre e pertanto il rialzo che si sta sviluppando adesso potrebbe essere un movimento destinato a prolungarsi anche nel medio e lungo termine con obiettivi ben a di sopra di quelli che abbiamo indicato e che si collocano fino almeno ai 7,30 Euro circa. Con questo vi ringraziamo, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero.